Io rappresento, o poi presento, questa toglese, che è una gestione, possiamo considerare un po' moderna, ma che ha sempre nel cuore il passato della vita, che ci dà quei valori, che ci fa un po' emozionare, che ci fa vivere un po' tutte le domeniche che stiamo vivendo, partendo dai bambini, a cui appunto bisogna proprio insegnare queste cose, per creare poi il prossimo futuro.